Allora, parola al sindacato Fortuni CISL. Abbiamo toccato anche l'argomento giovani, però è strettamente legato con questa situazione di percezione reale, l'occupazione. Dopo affronteremo anche la futura disoccupazione che è minacciata o già attuata? Ma è un dubbio che siamo a un cambio di paradigma, un cambio di paradigma di dieci anni, è iniziata prima la crisi, cioè il rallentamento dell'economia c'era già prima, basti pensare che prima del 2008 il PIL del Veneto veniva portato in positivo dal surplus che si caricava sulle abitazioni, sulla speculazione, tant'è che adesso è crollatissimo, i prezzi sono andati giù, sono andati ai valori reali, forse anche un po' meno di quelli reali, e portava in positivo un PIL che già con industria e altro rimaneva industria e servizi e commercio, rimaneva in sofferenza. È chiaro che la crisi ha ribaltato tutto, ma soprattutto ha messo a prova i sistemi. Il nostro sistema, Italia, ma Veneto che ci corre appresso, è entrato in crisi altrettanto. Il Veneto forse ha pagato di più di altre regioni, perché la famosa locomotiva Veneta non si basava su degli assunti economico-produttivi di eccellenza. Certo ce n'erano moltissimi, come furono chiamate le multinazionali tascabili, le piccole multinazionali, non so, le selle Italia produceva il 90% di tutte le selle della bicicletta del mondo, perfino sotto alle natiche dei cinesi c'era una sella Italia. E via così. Altre cose, insomma, dai cavatappi alle biciclette di un certo tipo a le sedie, alla moda, agli occhiali, basta pensare alla luxottica e via così. Quindi alcune grandi cose, ma una grande massa di produzione industriale a bassa tecnologia. Questa è scoppiata tutta e la depurazione non è ancora finita, probabilmente, ma questo ha messo in tiro il sistema del Veneto, a partire dalle associazioni, dai centri di ricerca, alle aziende stesse in primis, perché se ho un grande investimento, perché perderlo, insomma, per tentare appunto di rimanere al passo, ricavare quel pezzo di mercato che mi ci si spetta, però con almeno tre grandi comandamenti. Quindi è cambiata l'economia? È cambiata l'economia, è cambiato il modo di produrre, è cambiata la platea a cui si rivolge il mercato ed è cambiato il modo di fare impresa. E nel modo di fare impresa è cambiato anche il rapporto dell'impresa con il resto del mondo e sta cambiando, anche se non con l'accelerità con cui noi ce l'avevamo augurato, l'avevamo almeno sognato e favorito, il rapporto per esempio con le nostre università, che spesso sono state sorde nel rapportarsi, università metterei anche istruzione superiore, che sono state spesso lente a conformarsi a ciò che di meglio potremmo fare nel nostro Veneto, nel nostro paese. In tutto questo, quello che comunque ha mancato, sta ritardando, eccetera, è una forte attenzione dello Stato per gli investimenti che occorrono per rilanciare l'economia. Allora, tutti si sono tirati sulle maniche, ma se non arrivano degli aiuti consistenti, veri, tangibili, chiaramente si fa un passo che è molto più lento di quello che l'esterno che ci impone, perché si impone su di noi, il mercato internazionale si impone su di noi, vuole, pretende, perché se non riusciamo a fare noi c'è qualcun altro pronto per. Tuttavia, quello che è successo è che le aziende che A, si sono internazionalizzate, B, hanno fatto ricerca sul processo e prodotto, C, hanno saputo stare sul mercato del credito e farsi prestare i soldi nonostante tutto, e quindi fiducia sull'impresa fabbricata dalla sola impresa, purtroppo. Ecco, queste hanno, se già erano internazionalizzate sono cresciute di più, se già facevano ricerche ed erano anche internazionalizzate hanno migliorato ancora e quindi hanno conquistato i mercati esteri e via, perché dopo arrivo al commercio, non è che voglio scappare, perché il trend si è visto dopo questo battibeccare dei primi due o tre anni, già il 2011 è stato un anno buono, il 2011 è stato il primo anno che per i primi tre mesi l'anagrafica dell'impresa nascita a morte è andata in positivo, ha durato poco perché alla fine del 2011 si è entrata in una crisi che già si vedeva all'orizzonte e il 2012 è stata una bastonata colossale e più o meno è andata nel 2013 e anche buona parte del 2014. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo recuperato delle fette di mercato internazionale con l'export e quindi abbiamo cambiato il fatturato, cioè il PIL non è più solo di bassa produzione ma anche di alta produzione e di esportazione. La crescita delle PIL dell'esportazione del Veneto è stata esemplare, è stata la nostra grande fortuna fino a qua. Il punto è adesso che si va anche a una nuova giunta e quindi la regione eccetera, se facendo un tesoro di alcune questioni che abbiamo più volte segnalato, io sono anche dentro al Fondo Sociale Europeo in termini di comitato di sorveglianza, quindi lì si fa l'analisi di quello che succede, si guardano gli indirizzi europei che sono cosa molto ben standardizzata in termini di consigli per lo sviluppo e che li devi seguire, non è che puoi far finta che non esistano e per poi formulare le scelte per spendere quel patrimonio che ci viene assegnato, accumulare e cofinanziare con la regione il resto e andare in determinate direzioni. Ora se è vero che è andata così come è andata, ripeto l'industria perché il Veneto andava fino a prima della crisi al 28% del PIL fatto dall'industria, adesso è al 25%, è sempre un dato molto significativo quasi unico in Europa, era il 28% in Europa, non c'era nessuno, nessuna nazione in Europa aveva, allora è chiaro, se cala quel PIL là, calia il reddito disponibile per andare a fare i consumi e i supermercati languono, si fanno la guerra fra di loro, aprono continuamente siti per cosa? Per accaparare il mercato degli uni e degli altri, portarselo via a vicenda e la torta però è sempre quella, come diceva prima, andiamo a fare due o tre carichi di estracomunitari, li portiamo qua, li mettiamo di soldi in tasca e li cacciamo dentro i supermercati e così fanno opera buona, ma non ce la facciamo, ce la dicevamo prima fuori. Ah, ve l'ha ricevata. Così spedono i tre carichi. Se l'economia non ritorna ai suoi equilibri in termini di fattori D, ecco, in tutto questo non è che l'industria sia stata a dormire, io so di cose che mi sono occupato per tanto tempo, che c'è un manifesto per lo sviluppo di un'industria intelligente, che c'è l'idea del digitale avanzato, mancano le grandi retti per la comunicazione, quello che mi meraviglia è che ultimamente abbiamo speso ancora 15 milioni da una parte e 20 dall'altra per i rifugi della guerra, il museo della guerra, i sentieri di montagna, di campagna, eccetera, via, però ci stiamo dimenticando della banda larga, cioè l'industria di eccellenza non può camminare senza la banda larga. In Veneto sarebbero... Quando la piccola e media industria oggi non ha sviluppato quasi per niente solo il 7% di chi produce un prodotto finito viene commercializzato nell'e-commerce, quando fra due anni, tre, la Germania sarà il 60-70% di commercio in e-commerce e noi stiamo ancora lì, è chiaro che partiamo svantaggiati e quando arriveremo, arriveremo con le piazze già e quindi venderemo a chi è capace di vendere in e-commerce, togliendo il margine di guadagno e quindi togliendo reddito spendibile per i consumi e quant'altro. Non l'hai detto una cosa importante, io ho questo dato qui dalla regione, ci sono stati investiti 70 milioni per portare la banda larga in 188 comuni e il progetto verrà completato per cablare tutto il Veneto. Hai ragione, è vero che è stato fatto questo, ma sai cosa sono 70 milioni? Sono niente e portata vuol dire che l'ho portata alla porta del comune, quindi non l'ho portata alle aziende, alla zona industriale, al centro commerciale, cioè non è che è un imbroglio, va bene, ma ce ne vorrebbero non 700, forse un miliardo, cioè ci vuole una spesa enorme per far sì che possiamo dire abbiamo servizio di banda larga e ricordiamoci, oggi non si fa più il disegno industriale come lo facevo io perché ho fatto il disegnatore industriale sul tenigrafo con la gomma, la matita e dopo, no no, si fa tutto alfanumerico, tutto trasmesso con l'acqua, quindi ci manca l'infrastrutturazione, è un'infrastruttura come si dice, non materiale insomma, che però è anche materiale perché le reti sono materiali, che fa la differenza, c'è poco a fare, fa la differenza, quindi una volta ci vogliono le autostrade e ci vogliono ancora, per esempio la lentezza della peda montana non ci aiuta, che viene, non so se siamo alla terza, quarta approvazione, ma non viene fatta, ma ci vogliono anche appunto le autostrade informatiche che permettono di andare da un'altra parte come sviluppo, per non parlare appunto di tutto il servizio alla persona, l'istruzione stessa che può viaggiare se abbiamo il servizio. Esatto, non della formazione parliamo perché è esattamente legato assolutamente. Infatti a proposito di banda larga che arriva, nella scuola dove insegno io la banda larga è arrivata al di fuori del cortile. No dai! Adesso noi siamo alla provincia e stiamo cercando di fare l'entrata nel cortile. Quello che quando abbiamo avuto le crisi del dopoguerra e la crisi del 79 erano state due crisi industriali, cioè avevamo bisogno di aziende che si ristrutturassero, si riorganizzassero per poter essere competitive e siamo riusciti a vincere quella sfida. Nel 2007 quando c'è stata la crisi, è stata una crisi che è partita, è stata una crisi finanziaria, non era una crisi industriale, però adesso cosa è avvenuto a distanza di 8 mesi? Che è diventata una crisi industriale, nella quale o le imprese lavorano nell'innovazione, lavorano nello sviluppo, lavorando sulla qualità o rischiamo di non superare questa crisi? Quindi è diventata una finanziaria industriale e questo vale secondo me anche nei piccoli attività, come diceva prima la Presidente, nel piccolo o comunque anche una piccola attività deve in qualche maniera rivisitarsi. Detto questo io mi chiedo, visto che la coperta è corta, no, è inutile che ci giriamo intorno ai tesoretti, non toseretti, non sa mai poi come sono le cose, la coperta è corta e quindi da qualche parte bisogna portirarla. Io mi chiedo, non è più giusto, più opportuno investire risorse in quelle aziende che creano innovazione, che investono nel lavoro, che creano occupazione, che lavorano con l'estero perché comunque lavorano con l'estero, io capisco che magari dico una cosa impopolare perché quando si fa qualcosa bisogna farla per tutti, però se noi investiamo quel poco che abbiamo su attività, su imprese che lavorano veramente per il futuro, noi creiamo occupazione, ecco io sono dell'idea che questo non avvenga, è un po' quello che mi ha detto prima. Ma lei quando dice investire a che cosa intende? Investire delle risorse che possono essere degli sgravi o in termini incentivi, verso quelle organizzazioni, quelle imprese, piccole, medie, grandi, che investono veramente nell'innovazione, cioè che creano un lavoro. Ecco io questo è quello che, secondo me, così potremmo vincere la scommessa. Per aiutare, Jobat, Jobat si chiosa da un provvedimento fatto da Obama, che vuol dire tutta un'altra cosa, cioè liberare risorse, mettere a disposizione finanza, perché le imprese innovative del manifatturiero, quindi ci hanno copiato da noi, siano incentivate a produrre di più e creare occupazione, però lì si sono creati per davvero posti di lavoro, qui ovviamente le imprese hanno approfittato ed è cresciuta, è innegabile, i dati sono chiari, è cresciuta, c'è stato finalmente il rimbalzo, non è più calata l'occupazione, è cresciuta e si è trasformata, ma è cresciuta comunque, ed è molto molto importante perché avevamo anche bisogno di, quindi vuol dire c'è più gente che lavora. Bisogna vedere fino al termine delle garanzie però. Sì, sì, ma non è importanza, non lasciamo perdere questa noiosa roba. Vabbè se lo dite voi sindacalisti, che è molto quanto anche il sindacato. Non sembro perdere, io ho fatto già ginnastica su Vicenza, a un'impresa serve un lavoratore, lo vuole o non lo vuole per licenziarlo, lo vuole per tenerlo, formarlo, crearlo nelle giuste competenze professionali, trasformare le sue competenze e riutilizzarlo ancora, non per licenziare. Vabbè, se siete voi addirittura del sindacato a dirlo. C'è bisogno che si liberi l'Italia dal fardello, forse anche l'Europa dal fardello, di questa pressione dei conti, liberare risorse per creare risorse, per creare economia, per creare crisi. E quella crea occupazione. Sul job act io avrei solamente indirizzato un po' meglio le risorse, non a tappeto, ma più mirate, ecco io questo avrei avuto piacere. Su intrese virtuose. Su intrese virtuose. No, adesso vediamo se è esatto. La previa di regole, ma è un'idea. No, vediamo se questo può essere interessante. Qua andiamo in pubblicità, però dopo lancerò la parola anche a Denardi, perché muto con la richiesta di ConfCommercio Veneto, chiede ConfCommercio di disegnare il futuro del territorio e quindi vedere anche quali possono essere le imprese più virtuose del territorio. Sottolineando che la prima impresa del territorio con 70 milioni di presenze all'anno, ma soli per ora 2 milioni di euro da investire, contro i 70 del Trentino, ai noi è il turismo. E quindi capire se questo potrebbe rientrare tra. E invece, contrariamente a quante si dovrebbe fare, a questo punto al contrario non si è vestito in rinuncio. Esatto, rinunciamo. Quindi vediamo un attimo. Andiamo pochi secondi in pubblicità e poi vediamo di approfondire questo aspetto.